E' sempre vivo il ricordo di Marco Essasà, il prossimo 16 gennaio si svolgerà il secondo torneo dedicato ai due giovani regbisti sulmonesi, Mauro Ranalli il presidente del Sulmona Rugby, come si presenta questa iniziativa? Chi parteciperà innanzitutto? Questa è un'iniziativa che vogliamo portare avanti visto che era stata già fatta una prima edizione, poi siamo un attimo fermati. Parlando tra di noi sotto queste feste per organizzare l'attività del 2016 ho detto no, dobbiamo ripartire da dove ci siamo fermati, dal torneo per ricordare Marco e Salvatore. Quindi in occasione diciamo dei due anni della disgrazia, quindi il 16 organizziamo questo torneo e parteciperanno Amatori Napoli, Old Napoli e l'Avezzano Rugby. Noi come li abbiamo contattati telefonicamente subito hanno aderito, neanche 24 ore di tempo, il tempo di una telefonata, il tempo di comunicare alle proprie società e i ragazzi e gli amici hanno detto ok veniamo il 16, veniamo a onorare la mia mora di questi due ragazzi. C'è un legame particolare bisogna dire con l'Amatori Old Napoli, è vero? Sì, l'Amatori Old Napoli praticamente è la società che organizzava il torneo sulla neve, diciamo le due divisioni del torneo sulla neve dove poi praticamente i ragazzi nostri erano andati a partecipare il giorno della disgrazia, quindi ci hanno sempre detto qualsiasi cosa serve noi saremo con voi, abbiamo approfittato, ok le abbiamo chiamate subito. L'Amatori Napoli è una società storica, quindi sono personaggi nelle loro file, sono anche giocatori che hanno vestito la maglia della nazionale, quindi per noi è un grosso motivo d'orgoglio. Poi verrà l'Avezzano che sono degli amici, hanno chiamato il presidente, come ho chiamato il presidente, ho detto Mauro non ti preoccupare sicuramente saremo da voi e poi effettivamente noi verremo tutti quanti. Insomma, quindi niente, questo è il positivo. Noi come Sulmona abbiamo creato questo movimento Old, visto che un po' di persone attivamente si sono riavvicinati, un po' di amici con la storia del chi c'è c'è, scorrendo ho detto allora facciamo questa Old in modo che ci diano una mano a portare avanti quella che è l'attività poi importante della società, che è quella giovanile con i ragazzi e continuano a fare i vari campionati. Quindi ci servono praticamente le persone che ci aiutino e chi meglio degli Old? Gli Old sono persone che hanno smesso di giocare e che vogliono dare un loro contributo materiale più che economico a portare avanti l'attività della società. E quindi i ragazzi verranno amici da Roma, da Pescara, da Teramo, dall'Aquila, come abbiamo chiamato tutti, sì sì siamo tutti presenti e saremo sicuramente più di 25 da quello che abbiamo contato al momento. Quindi appuntamento per sabato 16 gennaio alle 15.30 al campo da rugby in località Incoronata. Esatto, all'incoronata comincerà il torneo più o meno alle 16, il raduno alle 15.30, il torneo comincerà alle 16, sarà un triangolare e poi dopo il torneo, terzo tempo, solito con una ricca polentata per tutti quanti i partecipanti.